Let's go baby! Come sapete in questi giorni ho provato ad uploadare dei video senza successo e voglio annunciarvi una cosa sono molto più presente su twitch di quanto lo sono su youtube e potete farmi domande live invece di mandarmelo in privato venite nello streaming, fatemi una domanda, chiedetemi una cosa, io vi risponderò live è una cosa diversa lo streaming, mi piace molto di più da fare, è più divertente, è sicuramente più bello anche da vedere la persona che voi seguite che voi supportate, che vi fa vedere ciò che fa quando gioca, quindi non solo vi farò vedere le sport, la competizione ma anche come magari mi rilasso a qualche gioco e farò anche di talk show, cioè io che parlo davanti alla telecamera così mi metto questo qui davanti e comincio a parlare con voi, comunque ragazzi non è questo quello che volevo dirvi io mi sono stufato di mettere video su youtube, mi sono stufato perché io ogni volta metto video su youtube senza monetizzarli perché non mi interessa monetizzare un video su youtube, io ho già un lavoro, io già guadagno tramite qualcos'altro non ho bisogno di monetizzare video, io metto i video per condividere le mie esperienze, per condividere la mia passione delle sport per starparmi un sorriso, per farvi vedere magari qualcosa di nuovo, farvi capire qualcosa su un videogioco che magari seguite e niente, youtube mi continua a castrare qualsiasi cosa, cioè voi ci credete che quegli ultimi video commessi lo sapete perché non erano disponibili, perché non potevate vederli? perché una canzone non è disponibile o non è possibile riprodurre nel nostro paese ma io mi chiedo, già i video io non li monetizzo quindi ogni volta che vedete le pubblicità non vanno a me quei soldi ma vanno a quelli che hanno i diritti delle canzoni che va bene, è giusto perché bisogna pagare chi fa le canzoni, basta piraterie e ste cazzate è giustissimo, ma quello che io non capisco è perché mi blocchi il video cazzo, toglimi la traccia audio, mutamelo, fammelo capire cioè voi non potete capire quanti giro ho dovuto fare per capire questa cosa che per colpa di quella canzone che avevo messo non era possibile riprodurre il video cioè canzone che avevo messo, che poi è il bello, che era preso da uno streaming quindi io preferisco fare le streaming perché posso mettere la musica, possiamo parlare possiamo sparare la musica a 2000 e danzare e urlare di Gigi Doug senza problemi mi sono stufato di YouTube, ora cercherò di trovare un modo per risolvere questa cosa delle canzoni io la cosa che vi dico, venite a vedermi in streaming ragazzi, sono ora in streaming vi invito a venirmi a vedere e capire qual è la differenza tra un video su YouTube e uno streaming è qualcosa di diverso, di più appassionante quindi venite a vedermi, venite, non dico a supportarmi ma venite a scoprire cos'è uno streaming venite su twitch.tv slash powertv per capire quello che vi dico e perché voglio fare più streaming rispetto a mettere video? perché i video mi stanno uccidendo ragazzi, non posso pubblicare quello che voglio e se fai video troppo lunghi puoi tagliare le views e se fai video più corti fa quello e il copyright non ti fa vedere il video basta, mi sono stufato venite su twitch, è più libero, è più bello ci possiamo divertire, ci sono le emote possiamo chiacchierare assieme live anche mentre voi state facendo qualcos'altro io vi saluto e ci si vede stasera let's go baby e se fai video